Diverse centinaia le confezioni di mozzarella è già sequestrate in tutta la regione dopo l'allarme scattato ieri per la segnalazione di alcuni consumatori che avevano rinvenuto segni blu sul formaggio prodotto in uno stabilimento tedesco e distribuito attraverso alcune catene di supermercati in tutta Europa. Abbiamo registrato che il prodotto in effetti si presenta fino a che è confezionato e quindi integro in condizioni praticamente normali. Dopo l'apertura, passando alcune ore, sono stati segnalati da alcuni consumatori dei viraggi di colore che vanno effettivamente verso macchie di colore scuro, bluastro. La colorazione potrebbe essere causata da un batterio presente negli stabilimenti di produzione in cui manca una perfetta condizione igienica, ma da una prima analisi non ci dovrebbero essere danni per la salute in caso di ingestione. Delle ingestioni fortuite non hanno sortito effetti, pertanto ad oggi il sistema medico di controllo non ha segnalato casi. Dobbiamo dire al consumatore che l'unico prodotto interessato da questo allerta è quello che presenta su ogni confezione il marchio di identificazione DEBY106EG.